Il direttivo del PD omenese ha respinto le dimissioni del segretario Rondinelli, sconfitta elettorale da imputare a più fattori. I velli del Lago Maggiore, i sindaci chiedono al Consorzio del Ticino un monitoraggio costante per evitare il rischio bombe d'acqua. Crociata di alcuni sindaci ostolani in guerra con la regione Piemonte, reclamano scarsa attenzione nei confronti del territorio. Intervento dei carabinieri ieri alla piscina di Suna, un uomo dopo il compiano del figlio non vuole pagare il conto. Tre serate di musica a Verbagna con lo street art, primo appuntamento domani sera intra, partire dalle 21. Corsa in montagna, domenica Cannobbio, la mozzafiato Sky Race, iscrizioni aperte fino al giorno della gara. Ben ritrovati dalla redazione di Vicianotizia, questa edizione del nostro telegiornale. Il direttivo del PD omenese ha respinto le dimissioni di Alessandro Rondinelli. Il segretario rimarrà in carica. Il direttivo nella riunione di ieri sera ha analizzato la sconfitta del 25 giugno, imputando a diversi fattori il risultato del ballottaggio. Respinte le dimissioni di Alessandro Rondinelli da segretario del circolo di omenia del Partito Democratico. Il direttivo di ieri sera ha discusso e analizzato il voto del 25 giugno, poi all'unanimità ha deciso di riconfermare Rondinelli alla testa del partito. Rondinelli aveva presentato le sue dimissioni giustificandole come un atto dovuto dopo la sconfitta elettorale. Il direttivo del PD, composto da una trentina di membri, ha espresso pareri favorevoli e attestati di stima nei confronti dell'attuale segretario, dimostrando apprezzamento per il lavoro svolto nell'ultimo anno e mezzo. L'analisi del voto ha indirizzato le responsabilità verso altre figure del partito e verso altre motivazioni. Confermato il segretario, sono già iniziate le prime mosse per riorganizzarsi, in vista dei prossimi cinque anni di opposizione. Il primo passo è rappresentato da una conferenza stampa, indetta per lunedì alle 18 presso la sede del Partito Democratico al circolo Ferraris. Sarà presentato il gruppo consigliare del PD. Oltre ad Alessandro Rondinelli ci saranno l'ex candidato sindaco Maurizio Frisone, Rosario Oliveri e Dario Galizzi. Prima degli esclusi, la consigliera provinciale Rosa Rita Varallo. Rondinelli ha già designato la strada da tenere nei prossimi anni. La direzione ha dato un input preciso, dice Rondinelli, valorizzare meglio il lavoro svolto nell'ultimo anno e mezzo, allargando l'attuale segreteria. Vogliamo dare voce alle new entry del Partito Democratico. La scelta nasce dal fatto che abbiamo tutta l'intenzione di proporre al Consiglio Comunale dei prossimi cinque anni una opposizione seria e costruttiva. L'idea che sto valutando è quella di costruire una segreteria che possa seguire ogni singolo tema, aggiunge Rondinelli. L'obiettivo è di essere puntuali su tutte le azioni che l'attuale amministrazione farà. Un grosso aiuto perciò dovrà arrivare dal gruppo congiunto del vecchio e del nuovo gruppo dirigente. Ritorna di attualità il tema del livello del Lago Maggiore. I sindaci della fascia riverasca piemontese hanno preso carta e penne e hanno scritto al Consorzio del Ticino per chiedere che venga effettuato un costante monitoraggio. Questo per scongiurarsi, ripetersi di effetti da bombe d'acqua. Livelli del Lago Maggiore. I sindaci della sponda piemontese tornano all'attacco chiedendo al Consorzio del Ticino un monitoraggio costante per evitare i rischi connessi alle eventuali bombe d'acqua. La lettera è firmata dai primi cittadini di Verbagna, Stresa, Cannobbio, Gebbio, Ghiffa, Baveno, Meina, Lesa, Belgirate, Arona, Dormelletto e Castelletto. Da due anni è in vigore un protocollo sperimentale di innalzamento del livello del Lago Maggiore sulle portate del Ticino, gestite in modo artificiale dalla traversa del Pamperduto, che a sua volta dipende dai prelievi effettuati a monte e dalla regolazione dello sbarramento della Miorina. Con i forti temporali tra il 26 e 29 giugno la portata del Ticino è cresciuta velocemente, ma scrivono i sindaci. Nonostante le previsioni meteo di criticità ordinaria dell'Arpa Piemonte e quelle di meteo svizzera con previsione di allerta grado 4, il consorzio del Ticino solo a partire dal 28 giugno ha effettuato una simulazione ed un'effettuazione di manovra sottostimando le previsioni. Proseguono i sindaci, di fatto le manovre per aumentare l'erogazione delle portate del Lago Maggiore sono iniziate quando il livello aveva già raggiunto il massimo consentito. Nella lettera si ricorda come l'innalzamento del livello del lago diminuisce l'area fruibile delle spiagge, ma anche moli di attracco e opere di difesa. I sindaci chiedono di contemperare tutte le esigenze a monte e a valle in caso di previsioni di eventi o meteo eccezionali e intense, le cosiddette bombe d'acqua, è necessario effettuare manovre di abbattimento preventivo completo dell'opera di regolazione e aggiungono l'approccio proposto che considera il Lago Maggiore un serbatoio da utilizzare esclusivo al servizio delle esigenze di valle deve essere ripensato. Chiedono inoltre di discutere gli effetti economici, ambientali e di sicurezza idraulica tra tutti i soggetti presenti al tavolo tecnico istituito dall'autorità di Bacino e comprendere sia i territori rivieraschi che quelli del Ticino sublacuale. Sono diversi i cittadini che hanno effettuato lavori per abbattere barriere architettoniche che attendono i contributi previsti dalla legge. Si tratta di interventi effettuati anche quattro anni fa. Del problema si è fatto interprete il sindaco Domese. Mancati contributi per le barriere architettoniche, finanziamenti non dati a chi non ospita profughi, comuni tagliati fuori dalla gestione dei parchi. Sono solo alcune delle battaglie che da settimane alcuni sindaci ossolani hanno in corso con la regione, ma soprattutto con gli uffici regionali. L'ultima critica arriva da Domodossola per quella che il sindaco Lucio Pizzi etichetta come una situazione surreale, riferendosi al silenzio della regione che tace dopo che diversi cittadini hanno chiesto un contributo per realizzare interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche. A Domodossola giacciono 11 stanze depositate, già istruite negli anni che vanno dal 2012 al 2016. A queste vanno aggiunte 5 domande di contributo presentate nel 2011, giacenti presso gli uffici regionali, ed un'altra del 2010, per la quale dovrebbe essere in corso l'erogazione del contributo. Diverse famiglie hanno fatto i lavori necessari pagando di tasca propria, nonostante ci sia una norma dello Stato che prevede un concorso pubblico a sostegno di quei cittadini che già, per altri motivi, soffrono situazioni di difficoltà. Come sindaco, dice Pizzi, ho condiviso le perplessità dei concittadini che mi hanno contattato per conoscere lo Stato della loro legittima ma datata richiesta. Non sono riuscito a fornire, con imbarazzo, giustificazioni plausibili e tale inverosibili ritardi procedurali da parte della regione Piemonte. Ora sollecito la regione di intervenire. Non è la sola protesta che dall'ossola parte l'indirizzo di Torino. Nell'incontro con Matteo Salvini, domenica alla prateria di Domodossola, il sindaco di Borgo Mezzavalle ha rilanciato la protesta per le graduatorie legate ai finanziamenti per una serie di lavori. Alberto Preioni dice che la bocciatura è dovuta al fatto che Borgo Mezzavalle si rifiuta di accogliere i soliti presunti profughi. È assurdo, dice, premiare coloro che hanno clandestini sul proprio territorio. Cosa c'entrano i lavori di opere pubbliche con tutto il giro di affari dell'ospitalità? Di recente anche il sindaco di premia, Fausto Braito, aveva tirato in ballo la regione e chiesto l'annullamento della delibera regionale che riduce il ruolo dei comuni nella gestione delle aree protette dell'ossola, sottraendo le competenze dei comuni sul loro territorio per darli in gestione in esclusiva all'ente parco dell'ossola. Con il prossimo servizio andiamo a Suna, organizza la festa di compleanno del figlio in piscina. Nulla di strano fin qui, se non fosse che alla fine l'uomo non voleva pagare il conto, sono dovuti intervenire i carabinieri. Sono dovuti intervenire i carabinieri per convincere un verbanese a pagare il conto della festa che aveva organizzato ieri sera alla piscina di Suna. Pur nel riservo dei militari, la presenza delle pattuglie del nucleo operativo radiomobile non è sfuggita ai passanti. La chiamata al 112 sarebbe arrivata dal responsabile della piscina con bar e ristorante. Sembra infatti che l'uomo avesse organizzato la festa di compleanno per il figlio, pattuendo un prezzo per ciascun bambino invitato, una ventina, di 15 euro ciascuno, comprensivo di ingresso in piscina e cena. Alla festa però si sono presentati anche alcuni genitori e tutti, adulti compresi, hanno mangiato e bevuto a sazietà. Allo momento di pagare però il gestore ha giustamente chiesto di saldare anche quanto consumato dagli adulti, ma il padre del festeggiato si rifiutava categoricamente di pagare, negando di dovere soldi in più rispetto agli accordi presi. Alla fine sono arrivati i militari che hanno convinto il verbanese ad andare a prelevare al banco, ma a pagare il conto, riportando la situazione che stava diventando sempre più tesa sotto controllo. L'Assemblea dell'Associazione delle Piccole e Medie Industrie delle Provincie di Novara, Verbano Cusiossola, Vercelli e della Valsesi ha rinnovato lo scorso lunedì le cariche direttive, confermando presidenti Gian Mario Mandrini e Davide Bellet. Tra le new entry anche Silvia Polli di Manifattura Domodossola, che farà parte del Consiglio per i prossimi tre anni. Un ruolo importante per un'azienda ossolana e la sua giovane imprenditrice, che rappresenterà le aziende del suo settore, il tessile. Silvia Polli segue quindi le orme del padre Giuseppe, che in passato ha ricoperto la carica di presidente dell'Unione Industriale del Verbano Cusiossola, oltre ad essere stato presidente fino al 2013 della Federazione Italiana Industriale di Tessili Vari e del Cappello. Di servizi RAI in Valle Vigezzo. L'Unione Montana invia una lettera di protesta a Torino. il deputato di Fratelli d'Italia Nastri presenta un'interrogazione a Roma. Monta la protesta in Valle Vigezzo per il disservizio del digitale terrestre. Il dito viene puntato in particolare sul segnale RAI. Nei giorni scorsi l'Unione Montana Valle Vigezzo ha inviato una missiva alla sede torinese della RAI per segnalare il problema, che si verifica soprattutto in concomitanza con il maltempo, chiedendo una rapida risoluzione. Ora giunge la presa di posizione dell'On. Gaetano Nastri di Fratelli d'Italia N, che ha formulato una specifica interpellanza al Ministro per lo Sviluppo Economico, con cui chiede l'UMI su quale decisioni intende assumere in tempi rapidi, al fine di provvedere al potenziamento della ricezione dei canali televisivi della RAI, che da troppo tempo, scrive Nastri, risultano scarsamente visibili in Valle Vigezzo. Ringraziamo l'On. Nastri, fa sapere in una notte a Fratelli d'Italia N di Domodossola, per l'interessamento, dopo un colloquio intercorso con il consigliere di Fratelli d'Italia N, Fabio Basta. Un intervento rapido è una misura necessaria ed indispensabile al fine di garantire alla comunità locale un servizio pubblico per il quale è corrisposto anche il pagamento del canone. Premosello Chiovenda investe nel campo dei lavori pubblici. Il punto nel prossimo servizio. Premosello Chiovenda si rinnova tanti i progetti in cantiere da parte dell'amministrazione guidata da Giuseppe Monti. Venerdì 7 luglio verrà inaugurata la nuova area camper ai margini della Bosco Tenso. Nella stessa zona era già predisposta un'area a sosta, ma con il cospicuo intervento l'area è stata maggiormente attrezzata. Verrà data l'opportunità ai camperisti di noleggiare a titolo gratuito le biciclette messe a disposizione dal comune. A proposito di mobilità, circa 100 mila euro dell'Unione Montana delle Valli dell'Ossola verranno investiti a Premosello Chiovenda per la sistemazione della rete di piste ciclabili. Sarà un intervento importante, dice il sindaco Monti. Si lega con la creazione dell'area camper per ampliare l'offerta da destinare ai turisti. Premosello pensa anche alla pulizia e alla manutenzione dei rii. Il comune ha infatti erogato 190 mila euro per il rio Palera, che scorre al centro del paese, per il rio Busi di Colloro e per il rio dei Mulini di Cuzzago. Ulteriori 35 mila euro per il rio del Monte sono stati finanziati dall'Unione Montana delle Valli dell'Ossola. Inoltre, si procederà a breve sulla strada per la frazione di Colloro. L'intervento costerà 114 mila euro, 90 mila dei quali provenienti dalla Regione Piemonte, mentre i restanti 24 mila dalle casse comunali. Sempre a Colloro, nei prossimi mesi saranno affidati i lavori per la rivisitazione della baita caveia. Il Parco Nazionale della Val Grande finanzierà l'opera per un totale di 50 mila euro. Faremo tornare l'abitazione come nell'Ottocento a Sicuramonti e la renderemo un museo interattivo adatto soprattutto ai più giovani. La riqualificazione della baita rientra in un progetto di più ampio respiro del Parco Nazionale della Val Grande, che riguarderà anche altri siti. In un anno di amministrazione, conclude il primo cittadino, abbiamo reperito fondi extracomunali per 515 mila euro. Siamo soddisfatti e continueremo su questa via. Cresce la raccolta differenziata ad Arona, lo testimoniano i dati diffusi dal Comune, numeri che permettono alla città del San Carlone di entrare di diritto nell'albo dei Comuni Ricicloni d'Italia. Grandi risultati ad Arona per la raccolta differenziata, i dati lo confermano. Se a giugno 2016 i numeri del secco erano stati pari a 226.250 kg, quest'anno si sono notevolmente abbassati, arrivando ai soli 99.090 kg di secco indifferenziato. Un obiettivo parzialmente raggiunto, grazie all'impegno del Comune, delle attività commerciali e dei cittadini, che dai 192 kg di rifiuto annuo per abitante hanno raggiunto gli 84 kg, proclamando Arona una delle città dei Comuni Ricicloni. La confusione e malcontento dei cittadini, provati a giugno, quando era stato introdotto e sacco conforme per la prima volta, sono stati evidentemente superati e il sindaco Alberto Gusmeroli si ritiene molto soddisfatto dei risultati raggiunti. Anche le ultime criticità dei cittadini hanno trovato risposta nell'aulamagna del Comune, dove hanno avuto un confronto con Gusmeroli per risolvere alcuni problemi riguardo la differenziata, incontro utile e significativo per continuare a lavorare insieme per una città a misura d'ambiente. Dal 30 giugno è iniziata l'attività sperimentale della raccolta dei cestini, con lo scopo di differenziarli, iniziativa che non costa nulla ai cittadini e soprattutto permetterà di risparmiare per la vendita del materiale differenziato. Altri dati a favore di Arona. Nell'ultimo anno i cittadini hanno pagato il 6% in meno per la raccolta, numero che potrà sicuramente crescere ancora. Nel prossimo servizio la consueta finestra su Lago Maggiore Channel con il festival Tones on the Stones che arriva agli orri di Uriezzo. Ci troviamo a Uriezzo, premia, per raccontarvi in anteprima l'undicesima edizione di Tones on the Stones. Proprio da qui, domenica 9, ci sarà la prima performance dedicata ai bambini all'interno degli orridi. La grande novità è entrare in uno spazio meraviglioso come questo degli orridi. Dalle cave ci siamo spostati in un altro ambiente naturale dove però il lavoro è stato esclusivamente della natura e non dell'uomo. è uno spazio che ha suggerito molte attività. Ho chiesto anche collaborazione ad alcune persone esperte e studiose di questo territorio per poter far vivere gli orri di Uriezzo, far vivere le leggende antiche ossolane. E quindi, con la collaborazione di Giuliana Saletta, abbiamo scritto un percorso, un racconto che presenteremo grazie ad una compagnia teatrale, il campo teatrale La Fabbrica, all'interno degli orridi. E così apriamo l'edizione numero 11 del festival, con questa giornata dedicata soprattutto ai bambini, alle famiglie, che partirà col percorso negli orridi e poi a fine percorso a Verampio proporrà delle attività sempre recreative, artistiche e anche culturali. Ci sarà un laboratorio tenuto da un campione del mondo della pasticceria, Stefano Donelli, che insegnerà ad usare il marzapane. Questo ci consente anche di lanciare l'evento del weekend successivo, perché al Foro Boario, il 15 luglio, presentiamo l'opera Hansel e Gretel e quindi Stefano farà un po' il pasticcere della cattiva strega. E sempre a Verampio, domenica 9, ci sarà la presentazione di un cortometraggio sul tema delle streghe e anche un approfondimento sulle erbe, sulle proprietà soprattutto di quelle pericolose o velenose. Quindi una giornata simpaticamente, scherzosamente horror per i ragazzi, per i ragazzini. Quindi questa è la novità di quest'anno. Ultimo weekend della mostra Exodos, dedicata al tema dei profughi e dei migranti, allestita alla sede della SOMS di Domodossola. Sabato 8 luglio in programma alle 17.30 allo spettacolo Il viaggio più lungo, l'odissea dei migranti italiani, tratto dal libro Lorda di Gian Antonio Stella, che sarà accompagnato dai canti e dalle melodie della Compagnia delle Acque. Domenica 9 luglio, invece, la giungla di Calais, raccontata dal progetto Meridiano d'Europa, ideato e realizzato dai ragazzi del VCO che si sono confrontati con i temi delle migrazioni. Seguirà un aperitivo musicale con banchetto informativo e tutte le iniziative saranno ad entrata libera. Domani sera, a partire dalle 21, la prima delle tre serate dell'edizione 2017 di Verbagna Street Art, appuntamento che torna anche il 13 e il 20 luglio. Nelle vie e piazze di intra, di scena musica, intrattenimento e divertimento. Come nasce e con quali intenti Verbagna Street Art? Verbagna Street Art nasce con l'intento di portare le arti in strada, quindi quest'anno è incentrata prevalentemente sulla musica e sull'arte della pittura. Il prossimo anno vogliamo proprio portare quello che invece sono tutte le arti di strada, quindi ogni anno una novità. Non più quindi poi la valorizzazione solo di determinate zone di intra, ma coinvolgere proprio tutta la cittadina, tutto il centro storico e anche e soprattutto le vie più piccole e meno frequentate. Ecco ricordiamo che i punti musicali sono ben 13. I punti musicali sono 13. Che musica si ascolterà? Ma ci sarà un po' di tutto, ci sarà una varietà per accontentare un po' tutti i gusti, quindi si passerà dal liscio al jazz, al country, al funky, al rock, al rock magari anche un po' più duro. Si è cercato di scegliere le band locali per valorizzare... Si insegna anche della valorizzazione di giovani e di band locali. Assolutamente sì. A Intra ci voleva un appuntamento del genere. Noi vogliamo favorire, come è stato negli ultimi tre anni, l'apertura dei negozi alla sera e la presenza di tante persone che possono vivere la città facendo una passeggiata, comprando anche qualcosa, visitando la città. Siamo contenti di essere riusciti con la Proloco, che in Estremis ha salvato l'idea di questa manifestazione, per dare anche continuità e sviluppo. Il Comune sostiene ovviamente le tre serate, che coinvolgono vie e piazze, che di solito non sono centrali nel giro delle persone, e quindi è anche un modo per portare più persone anche a conoscere meglio Intra e a visitarla. E ora lo sport. In apertura la corsa in montagna. Cresce l'attesa a Cannobbio per l'edizione 2017 della mozza Fiatto Sky Race. Diverse le novità quest'anno, a cominciare dalla data, non più agosto ma luglio, e poi l'arrivo e la partenza, che saranno nel centro storico di Cannobbio. Mai come quest'anno, la mozza Fiatto Sky Race sarà ricca di novità. Da quest'anno abbiamo deciso di portarla nel centro di Cannobbio, nel nostro borgo antico, per ancora di più coinvolgere il paese. Oltre alla location è cambiata anche la data, da agosto si è passati a luglio e di domenica, contrariamente agli anni scorsi in cui si disputava appunto ad agosto e di sabato. Ma abbiamo provato a cambiare, siccome ad agosto è sempre stato successo comunque dalla gara, ma tanti erano in ferie, anche quelli che ci danno la mano, perché tanta gente, abbiamo provato a cambiare a luglio, e l'abbiamo spostata di domenica, perché le gare, quasi tutte le gare si fanno di domenica. Qualche anticipazione sui nomi? Sappiamo che sarà presente il vincitore dell'anno scorso, Cristian Minoggio. Oltre a Cristian, che ci fa piacere che anche quest'anno fa la lunga, dovrebbe esserci la Brizio, però c'è un infortunio al ginocchio comunque invitata. A livello di iscrizioni siamo nella media degli altri anni. Speriamo quest'anno che siano di più. Le iscrizioni sono aperte online fino a venerdì sera, e poi le prendiamo noi in loco dal sabato pomeriggio e la domenica mattina fino alle 7, 7 e mezza. Confermati invece i due percorsi, mozzafiato e mezzafiato. Poi quest'anno le grandi novità che gli organizzatori hanno portato con la scelta di partire sotto il campanile, dal nostro borgo, è un ulteriore elemento che vuol significare questo forte legame che c'è tra la mozzafiato Sky Race e la comunità cannobiese. Il coinvolgimento dell'oratorio con la parte post-corsa all'oratorio è un ulteriore elemento nel coinvolgimento della comunità giovanile cannobiese, per cui questi sono i tratti salienti significativi di questa. Sport, agonismo, conoscenza del territorio e promozione del territorio, oltre questo forte legame con la comunità locale, senso di appartenenza che è l'elemento significativo della nostra comunità. Nel prossimo servizio invece le immagini della camminata non competitiva denominata Runner in Vista, svoltasi nel passato fine settimana a Gravello Natoce. A Gravello Natoce si è svolto sabato 1 luglio con partenza alle ore 9 al parco Lungostrona, nei pressi del centro commerciale Le Isole, Runner in Vista. Runner in Vista è una camminata non competitiva di 5 chilometri che fa incontrare runner vedenti e non vedenti nella condivisione di un'esperienza unica. Correre uniti, correre al buio, infatti è stata data la possibilità ai vedenti di bendarsi gli occhi e di farsi accompagnare nella camminata per provare le sensazioni di un non vedente nei suoi movimenti. Runner in Vista si disputa in tutta Italia con un calendario di 11 camminate con partenza e arrivo nei pressi di altrettanti centri commerciali. Una fiaccola che attraverserà l'Italia da nord a sud per diffondere i valori dell'inclusione e dell'autonomia. Organizzata in collaborazione col centro commerciale che ha curato la parte logistica e la SD Gravellona VCO che si è occupata di individuare il percorso e della sua pulizia. La manifestazione ha richiamato 130 camminatori da tutta la provincia e da quelle limitrofe ma non solo infatti non ha voluto mancare all'appuntamento nel VCO una non vedente di Belluno opportunatamente accompagnata dal marito per tutti la t-shirt ufficiale dell'evento da indossare durante la camminata. Il percorso tutto pianeggiante si è snodato lungo i sentieri della riva sinistra del Toce. In mezzo alla natura con i profumi delle acque del Toce e della campagna esso non ha mancato di entusiasmare gli organizzatori che lo hanno definito il più bello e suggestivo di tutte le 11 camminate in programma. Il ricavato della camminata così come quello di tutte le altre in programma sarà devoluto all'Unione Italiana Cecchi e Ipovedenti. E vi ricordo il nostro sito internet tuttonotizie.info per il momento è tutto grazie per averci seguiti e buon proseguimento con le nostre trasmissioni.